E' stato creato un nuovo sistema informatico per gestire tutti i dati relativi agli interventi per i minori fuori famiglia collocati nelle strutture residenziali. Una piattaforma online che consentirà a tutti gli attori impegnati nella tutela e nell'accoglienza dei minori di interagire in maniera tempestiva, facilitando quindi la comunicazione fra gli uffici centrali del Comune di Napoli, servizi sociali territoriali ed enti gestori delle comunità di accoglienza. In particolare saranno aggiornati e scambiati i dati relativi al percorso di ciascun minore nel sistema di accoglienza, costruendo così un fascicolo personale informatizzato. Il sistema è stato elaborato in collaborazione con Vodafone Italia, secondo le più moderne tecnologie crittografiche per la protezione dei dati e delle comunicazioni. E' in dubbi il vantaggio di poter interrogare in tempo reale quelli che sono oggi i minori presenti e accolti dal Comune di Napoli, dalla Direzione Welfare, cosa che fino a ieri non era possibile farlo se non attraverso giornate di lavoro. Supereremo anche il gap che a volte è costituito dalla documentazione cartacea che non sempre viene aggiornata in tempo e non consente invece di avere elementi fondamentali come la tracciabilità di un percorso, significa l'accesso dei minori in comunità ma anche tutto il loro percorso, tutte le azioni intraprese a loro tutela e anche percorsi di fuoriuscita. Consente chiaramente un'interazione in tempo reale dell'amministrazione comunale, del servizio politica per l'infanzia e l'adolescenza e del settore welfare in generale con gli enti che hanno in affidamento proprio i minori.